Salve ragazzi e benvenuti a questa reaction di una reazione di un altro video di Deum una reaction di un altro video di Deum Sto facendo il video di Deum dicendo che la forcola è un po' Hey, do you think I'm ugly? No you're not, everyone is beautiful in their own way Really? Yeah, what matters the most is your heart Are you so ugly? I'm reporting you two to Miss Claire I'm looking at friends I'm looking at friends I'm looking at friends The second place goes to Andrew Andrew And finally The first place goes to Louis Congratulations I got to reflect, I understand What did you say? Trust me bro I will never betray you Eww You're friends with him? No, no We are just talking Oh, you little Oh, you little Oh, you little Oh, you little Divertente Un po' sauce Hey, yo, the craft looks kinda sus Ahahahah Good one Hey, miss me The craft looks kinda sus You're so funny, Darren Dude, what the? C'era Quello drammatico Bro, I'm so sorry I broke the phone by accident Oh no Hey, where are you going? Dude, chill, it's just a phone No, no Non posso suicidare Ahahahah Quello disperato Please be my girlfriend I will treat you like a queen Eww No, just go away He's going to turn around He's going to turn around Hey, you're always fine Rejection is paralive And I'm here for you Oh Then can you please be my boyfriend? Pfff Mi scappa, no Ahahahah The narcissist Gary, do my homework Oh Why can't you do it yourself? That's because I'm too smart for this And I have better things to do Like learning quantum physics You should do my homework For your own good Bro What? Quello non divertente Hey guys, that looks kinda sus Felix, do not interrupt my class Bro Quello che fa i gossi Henry's such a loser He can't even pass his math test Oh, hey Henry What's up? Oh my god Ma che cacchio Quello popolare Adesso c'è quello popolare There's Jessie over there Go talk to her dude All right I can do this Eh si va Dai andiamo Hey Jessie What's up? Oh hey Mark Didn't expect to see you here What? Are you searching for me? Bro Seriously? Haha Quello weird Quello Strano Oh C'è il scarpe di Jordan Can you take it off So I can have a better look? Sure Oh ma no, ma che cacchio Non puoi to... Si te togli usua... Te... Te de ruba Ma che cacchio What the... What the... La ma... Quasi... Bro Bro Ma che... L'amico che inizia a tenere sui segreti Nooo se pisce l'odosso Il giorno... Il giorno... Il giorno seguente Look! The people has arrived! Haha Are you going to pee your pants again? You little... Madonna che... Che sti amici nessuno li sopporto Quello... Tingo Bro Bro No no Dai no Hey my name is Jake What's your name? Hi I'm Kate Nice to meet you And he is my friend Bro He introduced himself Dai bro In... Una introduzione No dai ma che che che... Perfetto Si ne scappa via No In semplicità no Il scienziato è un matto Hey Josh Can I have a few of your hair samples for my experiment? Perché ti servono i suoi capelli? Ok sure Ecco un po' di capelli Un giorno... Un giorno... Un giorno... Un giorno si vede un clone suo Adesso si fa vedere un clone suo Un di i suoi coloni Che cosa cosa? Ma che cosa? Ti ho fatto a... Mescolare il dna di... Una mucca con... Quello dei suoi capelli Per creare una cosa così Quello... Intelligentissimo Hi Is this gluten free? Wait Why do you care about that? Are you gluten intolerant? No But I read from twitter And learned that eating gluten Can cause gluten Obesity Brain fog Alzheimer's and autism Bruh Tenny You're coming to my office after this class Bruh Che bugiardo Questo l'ha tradito Questo l'ha festeggiare come... Un matto Dopo scopri che non c'è la prof Hey bro How are you doing lately? Not so good My girlfriend runs a break out with me Ah Che figlia Che ti vuole lasciare Oh Vediamo i tuoi Ah Cioè 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 Aveva detto che poteva dergli dei Cioè Dei Ma Dopo gli chiede Ma c'è una ragazza tu? E lui no Cosa mi serve dei consigli da adesso che non c'è la ragazza? Il finto amico Una domanda Chi ha mai avuto un finto amico? Io no Per fortuna Per fortuna ho avuto un... No Sì ne ho avuto un finto amico Sì è stato uccido Debtor Oh no 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 Ragazzi no Ascoltatemi bene Se prestate i soldi Siete sicuri che questo qua ti porta indietro i soldi Perché c'è Ho avuto amici che non mi hanno portato i soldi indietro dopo un mese Anche due Anche due Ok Fine Thank you so much You're such a good person Che bugia Io ho comprato un panino Hey One chocolate ice cream please You little Quello che ti racconta le storie Bro You won't believe what happened yesterday What? Again When I was heading home A mother came off nowhere And asked for my money But I fought it off with my kung fu And he ran Anche io sono un tipo da Da raccontare storie Siete di la verità 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 Ah L'amico è sempre in ritardo Ok Siete di la verità Non venire domani in ritardo Dove è sto? Dove è? Dove è? Madonna Quanto è passato? Bro Dude I've waited for you for the whole damn day Oh mio Dio L'intero giorno Sennò Neanche It's AM Oh Bro Ah Sto qua ha capito Posso capire 9 Pensava che fossero le 9 di pomeriggio Ma sono le 9 di mattino Quello clingy Hey I need to be my teacher now You should go live first without me Ma che cacchi Dude Why are you following me? Because I want you Bro Quello pazzo che ti segue Oh Are you done yet? Oh Dude Give me some privacy Eh C'è 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 No Ma che Che questo qua Ti rovita la vita I ragazzi Ragazzo timido Ragazzo timido Quello ha Manca solo se Dove il ragazzo timido Quello che devo tirare fuori Un fucile Mancherà Ragazzo anime No I wanna go to subway You are the one asking the question What? Why does that matter? Um Let's go to Taco Bell Oh Ok Quando parla ragazzo Timido Sempre Hey bro This class is so boring Let's skip it No Oh no No Quella la che fa questo No Questo penso è un figo Ma non è un figo Yo You wanna go to the club with me today? No I have to study Dude You're such a party pooper Eh ma che Dei fare la solita Dude You gotta try this It's good for you No 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 Prova Tiziani dopo essere È un povero Come la madonna Tommy Wait Jimmy Is that you? Yes Sido Lui Non voglio accettare questo lavoro Ok ragazzi Questo episodio è tutto Andatevi a iscrivervi al canale di Dayum E Ciao ciao Wow Grazie a tutti.